I carabinieri della stazione di Caolonia Marina hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di atti persecutori un 38enne del luogo che tentava di introdursi con forza nell'abitazione dell'ex compagna minacciando anche di morte sia lei che i suoi familiari. L'intervento dei militari ha impedito che l'uomo in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche riuscisse nell'intento e arrivasse a compiere un gesto violento all'interno della casa dove l'ex compagna vive con il loro figlio di due anni. L'uomo non aveva accettato la decisione della donna di interrompere la relazione amorosa e già in passato si era reso protagonista di episodi simili. L'autorità giudiziaria ha pertanto disposto la custodia cautelare in carcere per il 38enne e successivamente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Resta alta l'attenzione da parte dell'arma dei carabinieri nei confronti delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità e delle vittime di violenza di genere. Il consiglio ovviamente è sempre quello di rivolgersi senza indugio alle forze dell'ordine per denunciare episodi, fonti di disagio e che possono assumere connotate violenti.